Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo post partita Se mi crede il telefono lo faccio volare Comunque parliamo un attimo della partita di oggi Samb Vastiesi è finita 0-0 E... raga Pareggio che... Brutto Non mi è piaciuta la partita che abbiamo fatto oggi Perché in difesa abbiamo concesso qualcosa di troppo secondo me Ci sono state due occasioni in cui siamo stati miracolati Forse una ma quella lì del 10 Che mi scordo il nome al momento Non me lo ricordo E poi nella seconda occasione di Alessandro Siamo stati fortunati Ecco Stivaletta Stivaletta è la prima occasione che ha tirato al lato Proprio ha sferrato il palo E poi Alessandro è stato fermato dal Boni perfettamente direi Però oltre a questo Primo tempo Non mi è piaciuto per niente Ma proprio per niente Per niente Perché Ok che abbiamo creato delle occasioni Però mancava sempre l'ultima cosa E la sbagliavamo Esempio Il passaggio Il cross Oppure il tiro veniva rimpallato Cioè tutte cose così E se andiamo a vedere effettivamente I tiri in porta che abbiamo fatto Forse Uno Due Comunque Vabbè a parte questo discorso Ci siamo mangiati un gol Colossale Colossale Con Cardella Cazzo E quella roba Mi fa rosicare come una merda Ve lo giuro Mi fa proprio Una caputtana Perché lui è mancino E' andato col sinistro Se andava col destro Ragazzi Quello era gol Era gol E' un gol che mi fa rosicare Mangiato Mi fa proprio del culo E Però così A Cardella Ragazzi non gli si può dire un cazzo Di niente Perché Da ricembre Oggi ho fatto Comunque Un signor campionato E tutto quello che volete E E gli va lato merito Assolutamente Perché se guardiamo la Samba di prima Ragazzi Non Non si può commentare Questa sì Questa sì Cardella ha sbagliato Cosa che Succede a tutti i giocatori Ci mancherebbe Però rosico Ecco Mettiamola così Che Che è un errore abbastanza pesante Però Però Non si deve Perdere d'animo Perché è un giocatore forte Completo Che ha la tecnica Che ha Tutto in regola Per essere un attaccante Non più di serie D Ma almeno di serie C Secondo me questa cosa Ce l'ha Come ce l'ha anche Fall Perché sono due attaccanti Che per la serie D Ragazzi sono Un lusso assoluto Secondo me E E niente Detto questo Secondo me La stanchezza Oggi Si è fatta sentire La gara di Castelfidardo Che è stata tosta 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 E che poi Mi ha fatto girare il cazzo Pure a me Per l'errore arbitrale E Però Però La stanchezza Un po' Si è fatta sentire Oggi Ho visto un po' Un po' male Pica E Nel primo tempo Thomas In qualche circostanza Ha sbagliato Qualcosa In fase di impostazione Che poteva Insomma Far ripartire L'avastese E creare Occasioni pericolose Che però Non si sono verificate E Lì si anche L'ho visto un po' Stanco Oggi E Mi è piaciuto Peroni Anche se secondo me Dovrebbe migliorare Un po' Sullo stop Che Se riesce a fare lo stop Raga Con tutti i lanci Che gli sono arrivati oggi Raga Quello fa Triplette Su Su triplette Ogni partita Raga Perché entra in area Stop Tira e fa gol L'ultima cosa La sbagliava sempre E un po' Mi dispiace Perché cazzo È un giocatore Che secondo me È migliorato tanto Mi è piaciuto Lorenzoni Che ha fatto Una gara Onesta Onesta Che parla per sé Che parla per sé Poi anche Albione È entrato bene Con Sonno Ormai È inutile Che lo nomino Perché è un Cristo Di giocatore Che per la Serie D È sprecato Noflak Ne ha fatto un cazzo Non ha fatto Niente di niente Quindi Non c'è Non c'ho altro Da aggiungere Falla che Me ne ha lasciato Un po' da solo Lì davanti Oggi è stato Un po' difficile Giocare Anche perché Affrontavamo una squadra Che anche loro Combattono per i playoff Ragazzi Sa Però per il resto Ho visto Stanchezza E poca precisione Poca lucidità Oggi Da parte mia Poi mi perlò sbagliare Mi perlò sbagliare Ma io ho visto Questa partita E sono di questo Di questo parere Di questa opinione E poi se non siete d'accordo Ci mancherebbe Nessuno vi dice nulla Però Quello che ho visto io oggi È questo Rispetto a Castelfidardo Ecco Magari Castelfidardo Ha mancato un po' di ordine Nelle idee Però Qualche Quella voglia di vincere E quella cattiveria Di papà Roppercura All'avversario Ci stava lì Oggi È mancata Secondo me Poi Detto questo Ora ragazzi Aspetta un periodo In cui veramente Ci spacchiamo Di brutto Ragazzi Ci spacchiamo Perché C'è il Pineto Che deve recuperare Due partite Mi pare Se non tre E anche il basto Girardi Che sta sotto Dobbiamo un po' Come vi posso dire Mettere la scarpa Da una parte E la scarpa Dall'altra Perché A un punto Ci sta la zona Playout Cosa che Non vorrei mai Che succeda Perché se andiamo In playout Ragazzi Mi taglio le vene Ve lo giuro Ma Dobbiamo anche Guardare sopra Perché adesso Dobbiamo Prendere come punto Di riferimento Il notaresco Che il Fiuggi Sta a 41 Però Valpineto Deve recuperare Due partite Magari le vince Che ne sapete I punti diventano più Adesso siamo a 6 punti Dalpineto Però Ecco Nel caso Le dovesse vincere Tutte e due Quelle da recuperare Va A più punti Quindi andrebbe A 12 La cosa lì Diventa Un po' Più Difficile Quindi Ora iniziamo Un Una parte Del campionato In cui Nessuno Ti lascia Vincere Così Neanche l'ultima In classifica Assolutamente Quindi Dobbiamo Dobbiamo un attimo Ricaricare le pile Poi porca puttana Porca di una troia Pena volta Che abbiamo la rosa Con un po' Più di giocatori Dio bono Di domenica Antonio Fuori quattro giornate Per insulti All'arbitro Che per carità Se li meritava tutti Però cazzo Un giocatore come lui Oggi Ci poteva fare comodo Cazzo Che poteva giocare Dall'inizio Vaffanculo Mi fa incazzare Ancora di più Sta cosa Perché Dito È un cazzo Di giocatore Fenomenale Per la categoria Però ecco Siamo stati ingenui Ingenui anche lì Ed è un peccato Per lui Perché è un giocatore Che a me Fa impazzire Ed è un peccato Per noi Perché è un giocatore Che ci fa la differenza Raga Porca troia Poi Lulli Diffidato Ci abbiamo pure Alcuni giocatori Infortunati Frulla A Brandini Che non ti sa Quanto cazzo Stara fuori Ma Frulla Giovedì Deve tornare In gruppo Ferrimarini Che io non capisco Una volta convocato Una volta no Non so Che cazzo Sta a succedere Per me E E niente No Vediamo Di far più punti possibili Raga Cioè In zona playoff Adesso si fa Ancora più Più dura Più difficile Perché È un campionato In cui non ci si capisce Un cazzo Una vince Con l'altra Poi con la dopo La perde Per esempio Il Castelfilardo Con noi La partita della vita 0-0 Oggi ha perso 3-0 Con il Notaresco Cioè Capite che È tutto un po' Un po' così Il Tolentino Che ha vinto Con la vastese Domenica 2-0 A vasto Oggi È di tapperti Col fano In casa Cioè È un campionato Stranissimo E Io non so Cosa pensare Raga Dobbiamo essere Proprio miracolati Che proprio Il signore Ci dice Belli Ragazzi Rosso Blu Ve facendo I playoff Deve succedere Questo Perché Ora come ora La strada È ben più Che in salita È ben più Che in salita Ma non tanto Perché Stiamo facendo Partite di merda Ok Che proprio Non ci possiamo vedere È che Anche le altre squadre Cominciano A dare il meglio Di loro Così È tutto più difficile E succede sempre Di tutto Che uno vince Uno perde Uno pareggia E quindi La classifica Si fanculizza In due secondi Capito È questo il problema Ed è normale Ed è normale Quindi se noi Dobbiamo veramente Arrivare ai playoff In questa benedetta Zona playoff Dobbiamo vincere tutte Praticamente Adesso arriva Il Chiedi Chiedi Che è stata Una squadra Che nel girone Di ritorno Appena iniziata 25 partite di fila Poi adesso Non so Hanno trovato Un po' di difficoltà Così Guarda Quanto è vero Il Dio Quanto è vero Il Dio Se ci hanno Le botte di culo Che ci hanno avuto Fino adesso Raga Gli impazzisco Ve lo giuro Non abbiamo ancora perso Con Alfonso e Visi In panchina Arriverà Quel momento E lo so E perché sarà Proprio domenica Guarda Ah Io spero Che non succeda Niente di strano A Chiedi Perché già Domenica Abbiamo perso Tre punti Fondamentali Per un cazzo Di arbitro Che pure oggi Mi stavo a far Scleraggio A un certo punto Ma mi sono contenuto Solo perché Lavoro per il giornale Perché sono tavolo Di matto Ve lo giuro Pensiamo al Chiedi Poi abbiamo il vostro Girardi Mercoledì Che la dobbiamo recuperare E mentre noi Giochiamo mercoledì Le altre riposano Perché giocano La domenica Cioè ragazzi Siamo proprio Fognati Nella merda Fino al collo Fino al collo Vabbè Io Chiudo qui Con questi Undici minuti Paccati di video Perché oggi ragazzi Dovevo dire tutto quanto Proprio a caldo Allo stereo Sta qua dietro Io vi ringrazierò Per la visione Vi ringrazio Seguitemi nei social Qua sotto Instagram Facebook Cazzi e mazzi E bla 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 Ci vediamo alla prossima Dai raga E forza Sam